E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo Ada ma che succede? Non mi chiedi mai chi è Ma che è successo Ada? C'è magari solo voi altri, c'è magari, lasciamo il ferro Ma non faccia così Ada Ma ci spieghi che è successo? Cioè, ma non è uscita oggi? Ada È proprio quello il problema, che adesso può uscire, capito? Ma non vedeva l'ora di uscire Eh sì, l'amica era l'unica Cioè, che c'è? Oggi, due ore di con Luigi, ma ero tutta apparecchiata, fatta bella, un po' rusa Mi ha detto, sai cosa mi ha detto? Cosa? Cosa ha detto? Mi ha detto, che se vuole più la pausa di riflessione, che non c'è io, che è lui, che capito, che c'è, che abbiamo corso troppo Cosa siamo stati sempre dentro casa? Dove è un corso? Mamma mia, niente, io lo so Cioè, la pausa di riflessione, mi dispiace, però è l'anticamera di lasciarsi Eh no, ragazzi, io lo so, anzi, noi donne lo sappiamo Infatti io, io ce il so, che ce il so che lui, lui vuole fare lo sgarzelì, capito? Lui vuole uscire con quei altri A me, a me, mi ha detto, ma mi ha detto, ma mi ha detto, ma Ada, lascialo perdere, che quello lì è un lumago, lascialo stare Ma Nada mi ha detto che era un affetto stabile, si ricorda? Eh sì No, io per lui ero solo un giugarello, capito? Io invece mi ero innamorata. No, 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 da come mia, che... Ma hai voltato con me in calzini! No, ma su, dai, ma lei è una donna così affascinante. Ma sì, una bella donna come lei, traverà qualcun altro così. Sì, una donna con tanti interessi come lei, no? Reagisca. Io faccio l'ho comunque di interesse, sa? Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. Ah, bene. Sì, sta facendo le bigotte per l'unicef. Ma che bigotte bigotte? Queste, queste qui non è le bigotte, queste non le ha insegnate all'università della terza età. Bigotte, cioè, sarai te. Sai cosa? Sai come funziona? Te, fino a straccio. Anzi no, ancora è meglio, una maglia della salute, capito? Tipo queste. Poi dopo la rotoli, fai cuscì, ce la fai una testa, poi più in cordò ce leghi, cuscì, forte, stretto, deve essere il cordò, cuscì, capito? Poi dopo, poi dopo ce la fai una bambolina e più in bel ciuffo dei capelli, capito? Cuscì, ecco, vedi questo? C'è il piccigli, sì, c'è il piccigli sopra e poi più i capelli, c'è qualcuno che ti ha fatto un torto, sai di chi, no? Poi dopo che le hai piccigate i capelli, comincia a fissare, c'è, oh, gli spilli cuscì, bastardo! Sta facendo una bambola voodoo, ma cosa fa? Ma cosa le insegneranno all'università della terza età? Sì, capito? Ma le ha insegnato la macumba, c'è la zumba, la rumba e c'è ancora la macumba, capito? Ma chi è? Ma secondo voi chi è? Ma mandai... Ma chi è? Oh, dito te! Se no chissà, bene, cosa pensa! Ma con Luigi, era Luigi che urlava! Certo che era Luigi! Ah, ma se l'hai cercata, se l'hai cercata, se l'hai voluta, eh! Cusci io e sta bene! Ma no, ma non può! Sì, 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 e anzi sarà meglio che voi altri non fai la spia, se no sei prossimi, capito? No, 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 per carità! No, no, per carità! Comunque almeno è un paurista in forma! Va bene! Arrivederci! Ciao, ciao! Ammesso che sopravviva!